L'NFP sta per non fungible token, che cos'è un token? Un token ne so, intendiamolo come un gettone, cerchiamo di specificare delle, usiamo una semantica molto semplice, in pratica il token non fungibile è un certificato digitale che è collegato a un file multimediale, praticamente noi abbiamo un certificato attaccato a una risorsa che è un asset multimediale, adesso vedremo anche che tipologia di multimediale, e praticamente possedendo questo token noi abbiamo la possibilità di essere titolari e quindi avere l'esclusiva sulla vendita e il trasferimento di questo bene. Inserito nella blockchain ci permette di parametrizzare la storia e testimoniare in maniera trasparente la storia della vita di questo elemento multimediale. Io sono un artista e io ho creato questo NFT, l'ho venduto a Gianluca e Gianluca in maniera trasparente e mutabile davanti a tutti, tutti sono testimoni che Gianluca è l'acquirente, quindi il possessore di quell'NFT.